Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi questo fantastico e veramente dico fantastico trasmettitore che ci permetterà di risparmiare tempo quando abbiamo bisogno di uscire di fretta e non troviamo mai le chiavi io sinceramente ogni volta che devo prendere le chiavi non riesco mai a ricordarmi dove le ho poggiate e quindi sto lì a correre per casa e cercare di fretta dove le ho potute mettere e perdo solo tempo e chiaramente mi agito in questo modo invece avremo sempre a disposizione le nostre chiavi senza temere quindi di perdere del tempo e nervosirci come vedete la scatola è davvero molto ben fatta all'interno troviamo un trasmettitore come vedete piccolo e molto molto leggero oltre che molto intuitivo e colorato c'è una base su cui andremo a poggiare il nostro trasmettitore in questo modo poi abbiamo quattro portachiavi uno diverso dall'altro come colori quindi abbiamo il rosso, ce n'è uno viola, uno celeste e un altro verde anche per distinguere quindi le chiavi che andremo ad utilizzare in più ci sono le varie batterie che andranno messe all'interno di ogni singolo portachiavi vediamo un po' il funzionamento devo dire che è abbastanza semplice abbiamo all'interno dello scatolo anche una garanzia e un libretto di istruzioni ma penso che non ne abbiamo bisogno perché veramente è molto intuitivo il suo funzionamento quindi vi dicevo all'interno di questo ogni singolo portachiavi andremo a mettere quindi la nostra batteria chiaramente in questo modo io le unghie non ce le ho quindi non ci riesco ma basterà semplicemente utilizzare o una moneta o come ho fatto io un semplice giravite andremo quindi a aprire il vano batterie del portachiavi come vedete all'interno non c'è nulla semplicemente basterà prendere la batteria che c'è allegata nella confezione e richiudere il nostro portachiavi io già ho fatto la prova con il rosso sul lato posteriore invece del trasmettitore troviamo lo stesso il vano batterie che andremo semplicemente ad aprire all'interno vanno inserite due batterie mini stilo che però non troviamo nella confezione una volta che abbiamo inserito le nostre batterie chiudiamo quindi il vano batteria e il gioco è fatto come vedete su questo trasmettitore ci sono i vari colori che indicano il colore relativo a ogni singolo portachiavi quindi come vi dicevo io nel portachiavi rosso ho messo la batteria andremo quindi a schiacciare la chiave rossa come vedete oltre a lampeggiare il portachiavi fa sentire quindi il suo suono e ci permetterà quindi di capire dove abbiamo messo le nostre chiavi ma il trasmettitore ha anche un doppio utilizzo come vedete sulla parte superiore abbiamo un piccolo led che ci permetterà di utilizzare il trasmettitore anche come lampadina nel momento in cui ne avremo bisogno tramite il tasto che vediamo qui sul lato basta semplicemente spostarlo sulla parte superiore come vedete si accende e devo dire che fa anche un'ottima luce il materiale di cui è composto devo dire che è molto leggero chiaramente dovremmo stare attenti quindi si sa che con l'utilizzo delle chiavi il portachiavi si potrebbe un po' rovinare ma come sappiamo qualsiasi genere di materiale a lungo andare con le chiavi si graffia comunque per il prezzo che troviamo su amazon devo dire che il prodotto vale veramente il costo che troviamo quindi ve lo consiglio ciao alla prossima